Uè amici! Bravo eh! Oh scusa eh? No no! Bravo! La insegna ai bambini che ci deve arruttare! Sì sì! Vada di Waw! Non mi ricordo più siamo tutti misti! Erika l'ho già stuprata! Dovrei andare, dovrei andare... Oh no, la città della paura! Pappappappappappappappappappappappappappappapp! ok allora adesso cominciamo anche a leggere le domande se sei d'accordo divertiti aspetta mi sa che l'ho già battuto aspetta mi sa che devo per forza passare per la via vittoria per la via vittoria per la strada quella brutta la pista ciclabile intendi no va a falculo già ferranopoli e via zucca devo far mente locale aggiusto la pista ciclabile no ma hanno beccato mannaggia ma hanno i pocavone al 28 ma dai c'è no aspetta 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 noi ci lamentiamo dei nomi degli allenatori di sesta e settima gen ma questo qui si chiama bettino cosa aiuto allora aspetta che sono quasi alla città fucsia silenzio un attimo cominciamo con le domande marco tosoni ci chiede ma io stavo cantando stai zitta no ora marco tosoni ci chiede perché la gente odia garbodor io l'odoro è bellissimo vuole solo un abbraccio è infatti ed è bellissimo per questo la gente non capisce un cash ok prossima domanda ma voi pagate affitto mutuo da parte di Emilio il figo si però la persona a te ricordati l'hashtag del fuckyouamon perché altri non ti vediamo poi lag in war scrive booby o boots ma non l'avevamo già detto in altra volta Non ho boots No, preferisco E poi scrive A parte le cazzate Migliore canzone dei Sun 41 Le King Park e Green Day Aspetta, non mi ricordo più l'ordine Vabbè, facciamo Give It Up Oh Dio Come Give It Up? Non è Crawling No Quelli edgy sono i Sun 41 Giusto, ah no Cioè, sì Vabbè, Twisted by Design Probabilmente dei Sun 41 Ehm, boh E dei fumare erba Sto pensando Pensavo non ti fosse arrivata E infatti pensavo non ti fosse arrivata la battuta brutta Scusa No, è che sai L'ho sentito Però ho fatto finta di Darky701 Scrive Cosa dareste perché Game Freak Crei Mega Stamfisk Mega Infernape O una mossa detta esclusiva Appunto per questi Pokémon Il culo Ah, ma tanti reni non servono Il culo Red from Canto Cosa ne pensate Della serie Il Professor Layton Non ci ho mai giocato Ho giocato giusto al primo Dopo l'ho abbandonato Ma non mi dispiacerebbe ricominciare a giocarci Quasi quasi recupero i capitoli New Super Jeju Chiede Best membro della famiglia Zeppeli Gyro Gyro Indubbiamente Cosa ne pensi Della mossa Rela 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 Hai proprio ragione Oh, Cristiano Corsi ci chiede Cosa ne pensate di fare Emblem Heroes per Android? Chiaro Non vediamo l'ora Esce tra l'altro No Esce venerdì No, giovedì Esce mica Ah già oggi Sì, sì Giusto Esce giovedì E Porca troia Non vediamo l'ora Esattamente E ci faremo probabilmente Un video su Che dici? Ah, quello Aspetta a te Giustamente Alex Oliveox Ci chiede Quanto è sexy? Diciassette Ciao Diciassette Eh, rispondi Perché io? Tanto la mia risposta Guarda la tua Quindi Ecco Simone Olla Ci chiede Cosa pensate Della trama Di Rubino Il Zaffino Penso che Sei proprio Simpatico Esiste la trama Il Rubino Il Zaffino Pensavo Se fossero Un Ariano E uno Zingaro Che si contendessero Il mondo Però vabbè Fa niente No, no Peggiori giochi Di Pokémon Di Pokémon Di sempre Fenku Scrive Diego Brando Speedwagon Chi è il migliore Asbando No, no Chi è il migliore Asbando Nessuno Speedwagon No, scherzo Speedwagon Un po' Mi Gli odio tutti Adesso Basta Basta Sono carini Ma c'è GioGio Che sta diventando Non poco Mainstream Non poco Cancro No, vabbè Porca troia Uyabu Di merda Rid de mango You scrub Mirvo Con quel bellissimo Avatar Di demon belial Chiede Ma Chi è che odia Cacturne? E' un po' troppa gente Garbodor Jijinka Scrive Ma che garbodor E' garcio E' garcio Ti sei ritardato Porca troia Scusa Scusa Cosa ne pensate Di Boku Uno picco I regret nothing Bella merda E forse Aspetta Che deve venirmi L'aggettivo giusto E' una merda Ok Eh ma Paco Ma Paco Ma sei omofobo No no Fa schifo No fa schifo E punto Non c'è bisogno Di fare propaganda Gay Con Con quel coso Quello lì è un trap Non è un gay No I trap sono gay Si ma I trap Non sono nemmeno Delle persone Ok Usa Oh Eh no Il terreno Non li fa rientrare Migliori Ah tra l'altro Io ho tipo Quasi finito Di battergli Lì Di capo palestra Mi mancherebbero Brock Brock Blu 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 Cantiamo in coro Pokeflauto Ciao Snorlax Ah il percorso Si accede Da qua sotto Ma che se Mi sa Eh infatti Ricordavo bene Anna scrive Perché non mi piace Il risotto Ma soprattutto Quando girerete Un porno con Avon Anna Per favore Si ma tieni la bada Mio dio E poi Questo qua Non è un Non è una domanda Ma fa ridere Comunque Andrea Nicolai Andrea Nicolai Che non muore mai Scrive Non prendetemi in giro Lo dico alla mamma Cazzo L'ho appena fatto Bene Comunque il risotto Fa schifo Va bene E Mangia un po' di risotto Con la sangria Ah E abbiamo finito Le domande Eh Adesso vado a prendere Il tremo Per andare A Ioto Va che poi Te arriva in ritardo Non è Trenord Ah giusto Hai ragione E Finalmente Torno in una regione Un po' decente Siamo tornati a Fjordoroboli Va che bello E adesso Vado verso Bianca Fila Forse Forse Riesco Anche Out Aspetta che prima Facciamo un bel Save State Che è quello Che ci piace fare tanto Ah Ok E lo chiamo Ehm Avon Siamo di nuovo A Ioto Per caso Non lo so Ah Forse siamo ancora Accanto Perché qua E' territorio Territorio Cioè E' in Ioto Ma è di canto Questa cosa Io sinceramente Non l'ho mai capita Questi Cantesi Questi Cantieri Andiamo a guardare I cantieri Con i vecchi Va bene amici Siamo arrivati Al monte Argento E Ci vediamo Al prossimo episodio Che probabilmente Sarà anche L'ultimo Siete contenti? Sarà l'ultimo Punto Scusa No Ciao Al prossimo episodio Al prossimo episodio